Diversi minuti di applausi hanno accompagnato l'epilogo dell'esibizione dell'Orchestra Sinfonica Nuovi Spazi allo Smeraldo Ricevimenti di Canosa di Puglia. L'evento era stato organizzato per raccogliere fondi a favore della Mensa dei Poveri di Casa San Francesco proprio a Canosa. Ed anche sotto questo aspetto è stato certamente un grande successo, nonostante il maltempo abbia costretto gli organizzatori a spostare tutto e in fretta all'interno di una delle sale ricevimento della struttura. Protagonista la musica di Ennio Morricone, diretta magistralmente dal maestro Salvatore Sica con la splendida voce del soprano Grazia Berardi, a sottolineare i momenti più toccanti delle musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano nel mondo. Ascoltiamo un passaggio del concerto. La musica di Ennio Morricone, 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 Grazie a tutti.